In riferimento al progetto Stanze dell'Acqua, quello che ci tengo a dire e che mi fa molto piacere è proprio il fatto che il disegno animato venga utilizzato per parlargli un argomento così importante, così basilare per la nostra vita, fondamentale. Il disegno animato normalmente viene usato per parlare ai bambini, di solito vediamo animali, animaletti, fate, eccetera, in questo caso il potere affrontare un argomento così importante con il disegno animato secondo me è anche un onore per il nostro mezzo, perché dimostra la sua maturità e soprattutto le possibilità infinite che offre il disegno animato per parlare di argomenti che si dilungano nel tempo, che sono astratti, che sono surreali, che sono difficilmente realizzabili col disegno animato e la sintesi e un'altra dote del disegno animato è proprio quella che ci permette di trattare anni, secoli, millenni proprio con una velocità e con una immediatezza che diventa memorizzabile e che sicuramente viene compresa da tutti e questo argomento deve essere compreso da tutti perché l'acqua è qualcosa di importantissimo, ovviamente tutti lo sappiamo e dobbiamo cercare di pensare agli altri, essere meno egoisti e renderci conto di cosa significhi non dare la giusta importanza a un qualcosa che vale milioni di volte più del petrolio anche se non ce ne rendiamo conto.